Canon EOS R, le mie impressioni dopo un anno di utilizzo. Questa fotocamera è ancora attuale nel 2023-2024, vale ancora la pena spendere tutti questi soldi per portarsi a casa questo corpo macchina? Nel corso di questo video andrò a darvi la mia opinione in merito. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare, sono un fotografo, utilizzo prevalentemente strumentazione Canon, la mia macchina fotografica preferita è la Canon EOS 5D Mark IV, rimane la mia preferita di tutti i corpi macchina che io ho mai posseduto, però devo dire che la Canon EOS R che condivide praticamente lo stesso sensore mi sta dando qualche bella soddisfazione. Si tratta di un corpo macchina più piccolo, quindi più leggero, più facile da trasportare, certi automatismi mi stanno risolvendo alcuni problemi che prima potevo avere lavorando su reflex, invece su mirrorless diciamo che la vita è un pochettino più facile perché certe cose vanno un pochino più in automatico, la macchina magari su certi aspetti è un pochino più reattiva. Ovviamente non mancano i lati negativi, andrò a spiegarvi tutto quanto nel corso di questo video che vi consiglio pertanto di seguire fino alla fine. Vi raccomando anche di iscrivervi cliccando il bottone subito qui sotto, a voi non costa niente ma al canale date una grossa mano. Lasciate anche un like a questo video perché se siete in dubbio se acquistare oppure no questa fotocamera nel 2024 sto per darvi la risposta che cercate. Come detto, il corpo macchina ha pressoché lo stesso sensore e quindi lo stesso file d'uscita della Canon 5D Mark 4 per cui stiamo parlando di una full frame con un file di tutto rispetto. Le fotografie che escono da questo corpo macchina sono belle, sono pastose, hanno una bella risoluzione perché stiamo parlando di 30 megapixel quindi è come piace a me, è grossa, è cicciona, ha un file che dà molta soddisfazione, sia quando scattiamo, sia quando lo lavoriamo, sia anche quando lo stampiamo. È una fotocamera in gran parte moderna che però si porta ancora dietro un po' l'eredità delle vecchie reflex e ha delle cose che la rendono molto particolare. È una fotocamera ibrida in questo senso, non nel senso che fa sia foto che video, quello ormai è ovvio, tutte le macchine sono ibride, ma ibrida nel senso che rappresenta proprio il passaggio dai corpi reflex ai corpi mirrorless e incorpora delle caratteristiche che sono abbastanza uniche, come per esempio questo slider che non è piaciuto quasi a nessuno, quasi nessuno lo utilizza, io lo utilizzo pochissimo. In realtà era una bella intuizione perché si poteva abbinare una funzione e una modalità touch che permette di scrollare con il dito, quindi per esempio la si può usare per impostare i valori ISO o per regolare il bilanciamento del bianco. Non era una cattiva intuizione, però non è piaciuta quasi a nessuno perché in questo punto di solito c'è il joystick. Ora io devo dirvi che su questa macchina io non sento minimamente la mancanza del joystick, vi spiego perché. Nel momento in cui io vado a puntare e mettere a fuoco io posso con il dito della mano sinistra ma anche della mano destra perché ci arrivo, io posso andare a indicare un punto sul display, nel momento in cui sto guardando all'interno dell'oculare vedrò un punto che è il punto dove ho messo il mio dito, quindi facciamo finta che sia il frame che state guardando, io potrei mettere un punto qui con il mio dito, se io trascino il mio dito sulla faccia della persona inquadrata in quel momento, vedo che un rettangolo la evidenzia. Ecco che ho detto alla mia fotocamera di mettere a fuoco il viso della persona e a questo punto l'ha terra agganciata. Questa è una cosa molto pratica e secondo me è meglio del joystick. Col joystick vi ricordate cosa dovevamo fare? Avevamo il punto lì e dovevamo fare tic 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 tic. Ok finalmente siamo arrivati. Adesso tap con il dito, arriviamo sul nostro punto dove vogliamo mettere a fuoco, lo lasciamo andare lì e molto meglio, è più rapido, è più comodo e io non sono tanto propenso alla modernità né tanto meno alle modalità touch della fotocamera. Questa a me è piaciuta. Così come devo anche ammettere che non mi dispiace mettere a fuoco toccando il display perché certe volte quando sei in giro tanto il display si accende comunque per cui stai guardando dentro, metti a fuoco, clic ed è già fatto. Io preferisco guardare dentro nell'oculare, infatti la maggior parte delle volte guardo nell'oculare perché guardare nell'oculare mi spegne la luce sul resto del mondo e mi fa concentrare veramente su quello che sto mettendo nell'inquadratura. Fin troppo spesso mi capita quando non lo faccio di non riuscire a separare le due cose, quello che vedo con i miei occhi e quello che vedo con la mia inquadratura. Per cui magari sbaglio perché sto prendendo una cosa che non voglio prendere perché con gli occhi non la vedo e allora la prendo dentro nell'inquadratura oppure il contrario, mi perdo qualcosa. Però questa è una fotocamera che ha un oculare e per quanto digitale è anche abbastanza bello per cui non è brutto guardarci dentro e prendere una foto. Ovviamente uno dei difetti che ha è che nel momento in cui vado a scattare black out, mi diventa tutto nero. Come sulle reflex, certo, però devo dire che ha anche un meccanismo di rilascio abbastanza lento per cui nel momento in cui vado a scattare passerà un secondo, anche un secondo e mezzo, forse addirittura due prima di poter passare allo scatto successivo. Quindi il principale difetto di questa fotocamera è che è maledettamente lenta. Da questo punto di vista la 5D Mark IV è molto molto più veloce. Io in realtà mi trovo molto bene con questa macchina perché io la uso per fare paesaggi e interni, quindi la velocità non mi serve. Vi devo dire in tutta onestà che una volta mi è capitato di provare a fotografare una capra con questa macchina, una capretta. Non mi sono trovato un gran che bene. Anche semplicemente una capretta al pascolo era troppo veloce per riuscire a starle dietro e comunque il fatto di avere praticamente uno scatto, perché se io metto a fuoco scatto e poi ho due secondi di blackout prima di poter fare lo scatto successivo, significa che la bestiola se n'è già andata quando io sono pronto a scattare una seconda volta, quindi hai un colpo solo. Da questo punto di vista è un po' penalizzante, lo ammetto. Per contro però la messa a fuoco funziona molto bene, quindi non è una R6 Mark II, non è una R5, però la messa a fuoco funziona. Non è velocissima, non andrebbe benissimo per fare sport, ma possiamo tranquillamente farci ritratto all'aperto, possiamo tranquillamente farci degli eventi, possiamo tranquillamente fare un matrimonio, quindi da quel punto di vista è una macchina che funziona. Ecco, se vogliamo andare a un matrimonio e fare le raffiche non è proprio la macchina per noi. Configurazione del body, una cosa che a molti piacerà è che c'è ancora il display qui in cima, quindi possiamo vedere i dati di scatto. Questa è una cosa che a me non dispiace, però per contro una cosa che invece non mi piace per niente è la modalità video, ovvero per passare a video io devo premere il tasto mode e poi premere il tasto info. È una cavolata, però mi infastidisce. Preferisco di gran lunga avere una rotella dedicata come per esempio ho su R7, secondo me questo è un grosso miglioramento che c'è stato. Sui modelli successivi, in particolare su R6 Mark II, hanno tolto questo display, hanno rimesso qui la rotella mode, che io preferivo a questo bottone, quindi qui c'è la rotella mode e dall'altra parte c'è un bellissimo selettore foto video. Io questo lo apprezzo veramente tantissimo, ma ho sentito che molti invece preferiscono non averla quella rotella perché tanto fanno solo foto. Bisogna fare un po' per uno, amici. Molte volte manca la rotella e io mi dispero, altre volte la rotella c'è, io sono contento. Poi come vedete io ho la macchina senza rotella e molti di voi hanno la macchina con la rotella, quindi ci disperiamo tutti e due. Fatemi sapere in un commento se vi piace o no la rotella di selezione per la modalità foto e per la modalità video, oppure se preferireste non averla. Altre cose da dire sulla macchina, abbiamo il display pienamente articolabile, a differenza della 5D Mark IV, quindi questo è un vantaggio, soprattutto quando si fanno cose in spazi ristretti. Io scatto molte fotografie di interni e fotografia industriale, ogni tanto mi devo rannicchiare negli angoli per fare certe inquadrature su tre piedi. Avere il monitor è un bel aiuto, lo ammetto, anche se cerco di tenerlo chiuso la maggior parte delle volte perché è la parte più fragile di tutto il body. Lo sento che è costruito bene, non è che fa schifo, però è la parte più fragile, basta un colpo e ti sei giocato tutta la macchina, quindi bello averlo, però io ho anche un po' l'ansietta perché basta un colpettino, basta che qualcuno passi di fianco e te lo trancia via tutto ad un colpo. Costruzione del body è abbastanza robusta, non è costruito male, anche se io sono dell'idea che se prendiamo questa e una 5D e le ciocchiamo insieme questa esplode, la 5D invece si graffia soltanto l'esterno. Sono comunque di questi ideali, fanno più fragili, sono più leggere e di conseguenza sono più fragili, quindi non è costruita male, anzi io reputo che sia costruita bene, però non può prendere le botte che prendeva una reflex, secondo me assolutamente non può. Cosa che non piacerà ai matrimonialisti, abbiamo una sola memory card, io in realtà mi trovo benissimo perché non ho mai avuto problemi, devo dire che si riesce a registrare con grande successo anche video in 4k su questa macchina, come molti sanno e questa è una cosa che a me non piace di questa macchina abbiamo un crop importante sul 4k, quindi un crop di 1.8 se ricordo bene, questo è veramente limitante perché è peggio della PSC, cioè io mi trovo meglio a fare video sulla R7 di quanto non mi trovassi su questa macchina parlando del 4k, per il resto ha un bellissimo colore, ha una bellissima gamma, quindi da quel punto di vista produce un'immagine veramente molto bella e molto ricca, purtroppo è per andare a utilizzare una focale di un certo tipo dobbiamo calcolarci un crop di 1.8, quindi per esempio io adesso qui sto usando un 14 mm e mi diventa un 39 praticamente, adesso non so fare i conti a mente però praticamente il doppio, quindi se io sto usando un 14 e effettivo mi trovo un 40, capite che è un po' pesante perché diventa da un lato difficile calcolare la focale e poi magari se io voglio usare un grandangolo un po' spinto, cosa devo fare per avere un grandangolo spinto quando giro video in 4k su questa macchina? devo prendermi un 10 mm che costa una barca di soldi, quindi da quel punto di vista è un po' limitante, però io la sto usando prevalentemente per fare fotografia, quindi diciamo che questo problema mi tocca relativamente ormai. Rapporto lente sensore devo dire molto soddisfacente, le ottiche RF performano molto bene su questi sensori full frame, la combinazione tra le lenti e il sensore devo dire che è soddisfacente perché sono lenti e sensore non privi di difetti, in particolare le ottiche, in particolare questa qui è il 14 35 f4 serie L, ha una vignettatura molto fastidiosa e anche una distorsione abbastanza prepotente che si sistemano in post produzione ma sono comunque fastidiose, però al tempo stesso ci regala per esempio delle foto notturne molto interessanti con i punti luce che si trasformano in stelline meravigliose anche con delle aperture non esagerate, quindi da quel punto di vista è molto molto soddisfacente. Contrasto e nitidezza sono molto buoni, più sul 14 mm che sul 35, ma questa non è colpa della macchina, è più colpa della lente, comunque il rapporto è assolutamente soddisfacente. Vale i soldi che costa anche quest'anno? Vi dico la verità, secondo me sì, nel senso che la macchina è di assoluta qualità e per quanto riguarda la pasta dei colori, la qualità dell'immagine, io ci trovo molte similitudini addirittura con R5, non tanto con R6 eh? Vi ho detto in un video precedente che ho provato Canon EOS R6 e non mi ha soddisfatto appieno. Vuoi perché ha solo 20 megapixel, vuoi perché ho trovato delle immagini quasi un porte fatte, non ero contento del rapporto tra il sensore, l'ottica eccetera, mentre con questa sono molto più contento. Per cui secondo me questa macchina come resa finale, come qualità del file d'uscita è più vicina a R5 piuttosto che R6. Non ho provato R6 Mark II, quindi lì non mi posso pronunciare. Poi quella ha qualche megapixel in più, però per quanto riguarda R6 secondo me questa macchina vince sulla qualità finale. Poi ovviamente R6 è in grado di fare foto che questa macchina non è in grado di fare. Tutte le cose rapide, sport, avifauna, agganciare l'occhio al buio, insomma ci sono cose che questa macchina non riesce e non riuscirà mai a fare perché è un po' lentina. Però se facciamo la stessa foto, se facciamo un ritratto posato con questa e con R6, io mi gioco un Renne che viene meglio con questa. Così come se facciamo un paesaggio o una qualsiasi cosa statica, la qualità finale del file d'uscita sarà sicuramente migliore su questa macchina a parer mio. Vero è che rimane una macchina piuttosto costosa, quindi dobbiamo pensarci bene se vogliamo fare questo investimento perché costa, io la pagai, non mi ci fate pensare, io credo di averla pagata 2.500 quando la presi. Adesso credo che sia un pochino scesa, credo che si trovi intorno ai 1.800-2.000, una cosa del genere. Io parlo del nuovo, poi bisogna vedere i vari usati. Vale ancora la pena acquistare una macchina di questo tipo? Vi dirò, secondo me sì, ma dipende molto da quello che dobbiamo farci. Se dobbiamo scattare fotografie a cani che saltano gli ostacoli, piuttosto che a pettirossi in volo, non è la macchina per noi, non va assolutamente bene. Se dobbiamo fare fotografie a teatro durante il balletto, pure non è la macchina per noi, perché troppo lenta non risponde così bene al buio, quindi lì sarebbe meglio andare su qualcosa di un pochettino più evoluto, come un R6 Mark II o meglio ancora un R5 o meglio ancora una R3, ma lì c'è da svenarsi veramente. Una macchina come questa secondo me è fantastica se facciamo ritratto, ritratto posato soprattutto, se facciamo cerimonie, non ce la vedo malissimo, perché comunque ha la stessa resa e ti dà magari lo stesso feeling a livello di scatto che potevi avere con una 5D Mark III, quindi da quel punto di vista non siamo troppo distanti, raffica a parte. E la qualità d'immagine è comunque quella di una Mark IV però, quindi un pochino superiore. Cos'altro ci possiamo fare? Io ci faccio un sacco di cose, ci faccio fotografia di interni, ci faccio fotografia industriale, ci faccio paesaggio, ci si può fare secondo me reportage, perché comunque reportage non è che devi fare per forza le raffiche, si possono fare delle belle foto di reportage anche senza fare le raffiche, quindi prendendosi il tempo per scattare, facendo la foto si possono tirare fuori delle ottime cose. Sport diurno, io non la consiglio, non è proprio la cosa sua, però uno sport diurno si può fare con questa macchina, basta riuscire a beccare il momento senza dover fare 100 milioni di raffiche. Ecco, a V-Fauna ve la sconsiglio. Lì veramente me la sentirei di dirvi che non è la macchina giusta, così come anche sport estremi non è assolutamente la macchina giusta. Magari un po' di skateboard in diurna si riesce a farlo, magari con un grand'angolo, quello sì, quello perché no. Per cui vale il prezzo di listino? È una dura scelta ragazzi, costa tanto per quello che offre, considerato che è una macchina ormai un pochino vecchiotta. Secondo me vale la pena solo per la qualità di immagine che tira fuori, perché la qualità del file è veramente eccezionale. A questo punto sta a voi decidere. Se fate uno dei generi che ho elencato, per cui non vi serve la velocità, una macchina come questa può essere un'alleata fantastica. Se viceversa non sapete bene cosa volete fare o credete che potrebbe servirvi anche la velocità, è meglio andare su qualcos'altro come potrebbe essere per esempio una R6 o se avete i soldi una R5. A questo punto fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate? Ce l'avete? State pensando di prenderla? State cercando di venderne una? Fatemelo sapere nei commenti, ricordatevi di iscrivervi perché spesso io rispondo ai commenti con dei video shorts verticali, quindi non rischiate di perderveli e cliccate adesso il bottone rosso subito qui sotto. E che dire, io e Canon EOS R vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao!